Perciò che oggi siamo in questo nuovo video qui nel Minecraft E se sei bloccata la mappa Alla Scam Village sui Bad Lion non c'è fortuna Siamo nei Bad Lion Non è vero Siamo nei Bad Lion Perché negli Amsicamber Network non riesco a registrare Però sembra che anche nei Bad Lion ho molta fortuna Grazie mille di partire Oh che bello Sì, queste sono le cose belle Ehi là Sono molto triste Non riesco a registrare nemmeno sui Bad Lion Quindi penso che dopo Se questo SG andrà a segno Andrò a suicidarmi E quindi magari lasciatemi un like Così sono pure felice Mollatelo bello bello Perfetto Vediamo un attimo se riusciamo a farci Ovviamente perché sta facendo la situazione Si sta facendo tra l'altro Non è una spada Tu non vuoi uccidermi vero Tu sei un ragazzo felice Picchiatevi tra di voi Non picchiatemi Picchiatevi tra di voi Ho detto infedeli bastardi E lascia in pace me Che non ti ho fatto niente Ti giuro passi guai Ti giuro passi guai Vattene Vattene Basta adesso mi sono incavolato Non ce la faccio a registrare oggi Allora Stavo sui Mzikamber Network Che faccio? Va bene? Ok Impossibile registrare sui Mzikamber Network Perché ci stanno troppi agger e troppi team Ho detto va bene Perfetto Andiamo su Bad Lion Serve carino Ogni tanto ci sta Tornato Andiamo su Bad Lion Perfetto Vanno nel Bad Lion Incontro fan Ehi fan Ciao fan 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 Il fan mi uccide Perfetto Altri agger Altri team da miliardi E bellissimo Poi trovo la Scam Village La Scam Village Due volte su due Crash Quindi perfetto Bad Lion Grande giornata stupenda Ok Questo è stato riassunto Insomma di Di un attimo oggi In grandi linee Stato un attimo un po' così Mi duole Rendervi partecipi Della mia sofferenza Ma devo Per forza Obbligatorio Quindi adesso voi soffrirete con me Voglio registrare questo video a tutti i costi Spero non sentiate i fulmini troppo forti Se no ve li tenete Perché adesso non ho voglia di registrare altri video Questo devo andare a segno a tutti i costi E lo faremo andare a segno insieme Però C'ho comunque un topic di cui parlarvi Perché ero veramente felice di parlarvi Di una cosa che è troppo carina Un ragazzo Da quelli che magari mi seguono su twitter Se non mi seguite Andatemi a seguire Un ragazzo gentilissimo Mi ha fatto due nuove copertine E' veramente bravo questo ragazzo come grafico Trovate il link del suo canale in descrizione Perché merita Allora Partiamo dal fatto che una Gliel'ho pagata Una no Perché Una me l'ha offerta lui E poi la seconda Però gliel'ho voluta pagare Perché sinceramente io Ok Che magari uno può avere requisito Che magari che ne so Non so se mi conosce Perché io so famoso Magari potrebbe essere Uno magari c'ha pure un grafico Che fan O hai requisiti Se quel grafico mette requisiti Però ugualmente Io non me la sento Di darti solo Una sponsorizzazione Con cui ti ripago tutto il lavoro Che te ci hai messo In quel banner In quel lavoro In quella miniatura Quindi io qualcosa Li devo dare Perché almeno mi sembra giusto Almeno per me Ricompensare Mentre magari per altri Non pagano Non fanno niente Si prendono tutto gratis Perché per loro Va bene così Però io invece so fatto Che devo pagare per forza Perché sennò mi dà fastidio Non mi sembra una cosa giusta Da fare per me Comunque Tralasciando questo Trovate il link Del suo canale In descrizione Se volete passareci Passateci Perché sarebbe una cosa Quanto carina Fargli sentire un po' Di supporto Con gli iscritti Dato che se ne merita Veramente tanti E parliamo un po' di lui Quelle copertine Che mi ha fatto Sono una dei Bad Lion Quindi che l'avete già vista Del video di ieri Avevo messo prima Quella vecchia Poi l'ho aggiornata Con quella nuova Quindi se non l'avete vista Andatela a vedere È veramente carina E poi mi ha fatto Anche quella Della Top 5 Katniss Che è veramente stupenda Quella Il rig è una cosa Fenomenale Troppo bravo Su cinema 4D E ha fatto questa copertina Perché parlando un po' Della Top 5 Katniss Appena avrò Tutte le cose Inizierà ad essere Tutta nuova Perché ho L'intro nuova Copertina nuova Countdown De numeri nuovo Tutto estremamente Nuovo E veramente Sono soddisfattissimo Infatti è una delle serie Pure che sopportate Maggiormente Di questo Ne sono veramente felice E quindi Sta andando tutto Bellissimo Siamo inoltre quasi A 1700 Non so se ci siamo arrivati Ci avviciniamo ai 2000 E per i 2000 Io ci avevo in mente Uno speciale troppo figo Che mi sono messo a pensare Ed è veramente Una cosa epica Se riesco a farlo uscire fuori Veramente sarà uno Degli speciali più epici Mai visti Ma anche Epici nel fatto che Nessuno l'ha mai portato Una roba del genere Su Youtube Questo ce lo teniamo qua Perché veramente Io tendo sempre a fare Cose Sempre Pensare cose Originali rispetto agli altri Perché mi ci diverto A farlo Quindi Un team da due Mi sono rotto Sinceramente Le team da due E tu Se ti ammazzo Scatta il deathmatch Quindi magari Vediamo tipo se Se tipo Capisci Se i prano Mi sembrano Molto propenso Ad andarci Mi sembra molto Molto Vabbè Io Diciamo Caccetto Fammi il vago Poi se tipo Si rivela invece Più bastardo Di quanto pensassi Poi la situazione Si farà un attimo Un po' stranina Però Basta che non Mi ho messo al culo Perché mi ho messo dietro Ah Full ferro Eccone uno Ehi Vediamo un attimo Di ammazzarlo E vai Che facciamo Che facciamo Oddio Facciamo che Tipo scappo E vai Mi sono messo a fuoco Da solo Oddio No Mi ha ammazzato Che cazzo fai Non l'hai fatto Veramente Non l'hai veramente Ucciso L'amico Perché io Non te lo perdono Io non te lo perdono Che te mi ammazzi Amici così come Cavolo ti pare Arrivato Bello No Mi ha ammazzato Due capple Infame Questo è De infami Ok Perfetto Infami Mi ha ammazzato Due capple Adesso andiamo Ad ammazzare Un po' di gente Siamo in tre SG molto veloce Ho detto tutto Quello che dovevo dire Te sei morto Uno Quindi tu Avrai una vita Molto corta Ok Cosa succede E ce la fai a morire Non è Non è Oh cazzo Ok Oggi Oggi è un attimo Una giornata un po' Storta per tutto Anche per il pc Che mi lagga Oddio PvP di merda Allora Mano Concentrala di Raider Sei al deathmatch Puoi ararli Fatti valere Quindi falli vedere Un po' di PvP Fatto bene Almeno per la fine Del game Almeno qua Grazie di averlo spammato Così siamo tutti più felici Evita di andare su di me Oh Non è andato su di me Figo Figo L'ha ucciso Io continuo ad andare a fuoco Persistentemente Grazie Boss spamma Così almeno è tutto più divertente Non aveva prezzo È bello Perché dovresti Boss spammare adesso Ora me lo spieghi Perché dovresti Boss spammare Eh 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 Spero che comunque Questo mi sia piaciuto Non è stato il massimo Lo so Capite Mi ha già una giornata brutta Ci vediamo nel prossimo E' tutto Ci vediamo domani Lasciatemi un like Fatemi felice Che è bella Bella